ciao speravo di trovarti qua io non voglio sapere che cosa speravi eh però tu adesso te ne vai perché questo non è il posto adatto hai qualche problema? sì ho qualche problema sì certo ho qualche ma ho diversi di problemi e uno di questi sei tu senti se è per quello che è successo di sera parliamone dopo ok non qua va bene quando vuoi ok allora se non d'accordo eh ti chiamo io perfetto adesso posso andare? certo prego che fai? io qua ci lavoro anch'io? ecco cioè come scusi tu non stai proprio bene con la testa io sto benissimo sono il procuratore generale Sara Sant'Anastasi e prendo servizio oggi molto piacere ascolta siamo due adulti consenzienti che sono quindi allerti insieme la tua vita sentimentale a me non mi riguarda e non ci voglio proprio entrare e so mantenere un segreto lo faccio per lavoro sei più tranquillo adesso? tranquillissimo bene quindi possiamo procedere? prego mi presenti il capitano Alvieric? certo bene grazie a tutti